Aperto quasi per gioco dalla compagnia teatrale cast, il piccolo spazio libero e il proscenio di Sernia è stato coltivato con grande passione e impegno, diventando nel tempo un punto di riferimento per tutti gli amanti del teatro. La dimostrazione pratica è rappresentata dalla rassegna Mario Scarpetta. In questi anni ha infatti riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico, arrivando a tagliare il traguardo dell'ottava edizione. Il primo appuntamento è per domani, ma si andrà avanti fino al mese di maggio del 2018. Cominciamo domani con Matteo Mauriello, che è un grande artista, un attore, cantante, quasi ballerino. Insomma, ballerino proprio no, non è Roberto Bolle, però è molto molto bravo. Per cui domani ci proporrà un testo che si chiama Quasi varietà, che varia dalla musica al cabaret del Novecento. Poi saremo noi in scena la settimana prossima con l'attesa di Jennifer, un testo tratto da Nibale Ruccello. Poi a dicembre faremo Natale in Casa Cupiello, sempre noi della compagnia Cast, i due marescialli a gennaio, poi ospitiamo piccole donne, poi ci saremo ancora noi con taxi a due piazze, e questa è un'anteprima che la dico adesso. Il testo si chiama Come tirapino il dentino, che è l'idea di rubare il dentino che è stato scoperto qui a Isernia. Intanto la compagnia teatrale Cast continua a riscuotere grandi consensi anche fuori regione, con lo spettacolo Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Proposto in anteprima nazionale all'auditorium di Isernia, vede impegnati Salvatore Mincione Guarino sul palcoscenico e Giovanni Gazzanni in regia. Isernia ci ha portato benissimo, perché qui c'era tantissima gente, a Roma siamo stati 12 giorni e è andato veramente alla grande e continuiamo la tournée, perché saremo a Lucca domenica, poi a Civitavecchia, a Viterbo, probabilmente a Milano, altre date è inutile che ve le dico, perché speriamo bene.